A nome dell'Associazione Italia Tibet e della comunità tibetana in Italia, questo è stato il contributo nostro a Roma alla causa del Tibet, occupato da 56 anni dal governo di Pechino ed è questo il significato delle 56 bandiere che abbiamo congiunte insieme e abbiamo sventolato dal Ponte Milvio. Quest'iniziativa si realizza in linea con gli analoghi blitz che si stanno svolgendo in diverse città d'Italia e speriamo si possa allargare e diffondere anche in Europa. Il nome di questa iniziativa è Un Ponte per il Tibet, con l'augurio che il Tibet possa presto essere libero. Ciao! 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 Con l'occasione voglio anche ricordare che ad oggi 136 tibetani, uomini e donne, laici e civili di ogni età, dai 15 ai 60 anni, hanno deciso di immolare l'unica cosa che sono liberi di possedere la loro vita con il fuoco per il desiderio, il diritto legittimo della libertà del loro paese. Credo che ciascuno di noi abbia un impegno etico nei confronti di noi stessi, nei confronti di questo popolo fiero e coraggioso e resiliente e nei confronti dei nostri figli e delle generazioni future di dare il nostro sostegno per quello che possiamo a questa causa giusta. Grazie per il vostro aiuto.